Il cazzo che distrugge il meta dopo i ban Purtroppo i ban non sono ancora attivi ma già sappiamo che distrugge tutto Intanto tu che stai guardando su youtube Metti il pippolino, quello lì che mette il like E apri il commento che scrivi le cose che per titillare l'algoritmo scrivendo tipo Gangala Così sapremo che siete dei buoni persone Venerdì una maratona e fanno l'ascolto il demo mentre corri a bomba, è chiaro No non vuoi gangala, gangala lo devono scrivere su commenti di youtube Beh mi sa che è già vinta questa Con calma Vabbè Diciamo che è uno showcase del mazzo ecco Esatto ovviamente il mazzo si basa sulla combo a Weekend Woods Nizza che ho già fatto vedere in passato Ma che ho aggiornato diciamo alle nuove generazioni ecco diciamo Ho aggiornato a... Con le nuove carte, ho cambiato la sideboard e c'è Nizza che fa schifo da quanto è forte Ok fermi, eh posso schifare molto di più Dai, dai, dai Già che ci sta facendo fare lo showcase del mazzo Approfittiamone Weekend Nizza, sì esatto Tecnicamente potrei già chiudere Non concedere Un showcase del mazzo Oppo gangala Sì sì, oppo un po' gangala in questo momento Sì questo diciamo era l'intro per descrivere il mazzo Ecco Diciamo L'obiettivo è ramp, ramp, ramp Awaken the Woods Quando in campo ho tante terre e tante creature Nizza a meno 7 180 danni La cosa più semplice del mondo La nuova combo è uscita con Aftermath Il fatto che c'è Nissina da 3 mana Che quando fai Awaken the Woods Siccome sono terre e quelle creature Ti ridà immediatamente tutto il mana che hai speso 2 meno, vabbè Oppo si chiama comeback Sì Giochi buono verde Trovi le piante Mi sembra corretto Mi sembra più che corretto direi Ora capirete perché stavo cercando il mazzo registrazione Perché ho visto com'è la situazione dell'EQ E volevo mettere in pausa la registrazione Mentre ci sono questi tempi molti ma molti male Invece mi tocca parlare E intrattenervi Animali Che non siete anzi Il mio negozio start alla Lega Pauper Devo decidere Non lo fare No sto scherzando Bella sta mano di Arston Ok 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 Era un Celestine Enchantment Era un mazzo vero Era un mazzo vero Che ore stream no? Qua Alle 6 Ok Ci sta I banno sono attivi Dalle 5 Cioè vai al 4 season Che sto chiedendo Ma col cazzo Perché dovrei Allora Allora Missina E mi sta a terra Totano lo prendo con Nissa Quando mi pare Quando mi pare Peccato ho messo due Wacken in fondo Merda Mi sta a terra Mi sta a terra Mi sta a terra Secondo te Nissa e Chandra? Nissa e Chandra Mi hai detto sono tutto a un fuoco? Sì quando si Strasforbiciavano le tope No scusate esagerate E' successo E' qui male Hola Tipo l'8 E' ganso No questo è partito stronzissimo E più che altro mi ha levato Cioè Gobakan me l'ha messo abbastanza nel pertugio dietro Va da 1 Ok niente Ok Strini comeback Ci ha voluto regalare la prima Allora frilback K Ora sappiamo cos'è Non l'abbiamo sai dato Dov'è forte anche Polucranus Comunque è abbastanza un aggro no? Verrebbe la frattina per incantesimi Sì Fade Twistery Se incantesimi diventa vero Se incantesimi diventa veramente forte Credo che scediamo gli orsetti Purtroppo ancora dobbiamo vedere quanto il meta Però è vero che esiste se l'esina incantesimi Sarà un mazzo vero Quindi secondo me gli orsetti ci possano andare inside Il gorillone è un palo gigante Costa un miliardo Orsetti con 4 mana Spacchi tutto Il gorillone costa 5 Passo Poi devi far roba E spacca 1 A turno Fade Twistery costa 4 E spacca tutti gli incantesimi Tutti eh Lo lasci con un orso Eh che cazzo Sembra un po' meglio Come risposta Anche Cankerbloom è meglio il gorillone Sì infatti Vabbè tra Cankerbloom e Freelback è meglio Freelback Ah meglio il firexiano No 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 Defiler è forte a prescindere Va Darken Inchia ossification su Giorgio No ancora non hanno bannato Vediamo se peschiamo le figurine vere Prima o poi Quasi una figurina vera No No gli invoke Fable Deck Sono morti ragazzi Ovvio sono morti Quando giro è incantesimo e giro Eh sì Fade Twistery Va messo No serve Fade Twistery No serve Allora lui c'ha Ray Quindi è inutile spaccare questo Però posso spaccare questo Ho perso un attacco però Allora tecnicamente Se pesconissa Sono vivo Sono vivo Ho due pescate Nissa o Ixalan Aspetta devo chiamare quella giusta però Nissa Flainswalker scusa Se no pesco l'altra Fermi 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 Ixalan Cioè o pesco direttamente Nissa O pesco Ixalan Che può trovare Nissa Quindi se chiaramente ho 7 buoni top deck Chat le mani su Chat le mani su per Nissa Pescherò terra Sicuro Ma se pesco Nissa È un content Grazie Ama Sono Nissa Prezzor che del futuro Ora mi peschi Va bene Eh me lo merito Me lo merito Nissina dalla cima Forza Nissona 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 No Nissina Nissa 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 o Ixalan Siamo ancora vivi Abbiamo un altro turno Signore Possiamoci Ambloccarne altri Ci bastano queste Ci siamo Ci siamo Ci siamo Va bene Va bene Tecnicamente Questi sono 4 danni Questo è un danno in più Per tutta la board Topiare è più debole No però topiare Li impedisce Di attaccare con gli altri Ok Nissa 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 one time Nissa Il più forte Il più forte del mondo Uh Attenzione Il più forte di Gol Sta passando un pullman Direzione Lago Duria Ed è contenta signori Non se lo aspettava nessuno Non se lo aspettava nessuno Ma è arrivata È arrivata Never con seed con questo mazzo Vinci con 3 creature e 10 foreste Let's go Sì? No io no Mi ha comprato e mi ha preso con la ricetta Della dottoressa Ciao Silvia Ciao al mal di testa A meno che Sta il signor keep Se la stiancia è da tenere d'occhio Ma lo sleeper vero siamo noi ragazzi Eh il turno dopo posso fare il tricchettone Sempre una lieta visione Signor Delmo Ma grazie Drubolot Per la conferma di Dio e degli dèi No ignora la fa schifo Ignora la Nissan Non serve a niente Lascia la sta Ma va Ma ora è in questo momento Io faccio il turnone Io faccio l'ottimo turno di Dio Aggevat No turn Magic Ciao Questo era il mio turno 4 Tocca a te Stai appena visto Non è neanche il turno più forte A volte di quarto ho chiuso con questo mazzo È standard ragazzi Standard Post ban Non ho nemmeno una carta ban Lo fa piacere Beh ci avrà counter No Cazzo figa Il botto Vabbè dai Forse sono stato un grid Dovevo fare il titano Dai Eh dovevo fare il titano Tocca Fa schifo sto mazzo Riparte Riparte o si Sei un leccafica Certo Ci mancherà Le finisce prima o poi Bravo Mazzo più potente Della storia di magic Te lo giuro Reanimator Direi Abbiamo mazzo Praticamente Ok Via Via Basso 1 Basso 1 Basso Basso Via Via Un titano Let's go Beh x L'hanno Posso tenere Ormai k Perché è la più grossa risposta Che al verde A fable Per ora E poi dopo E a selesie incantesimi Però contro fable E for Ma se io prendo Direttamente nissa Sono stronzo Non puoi Non puoi sbagliare Voglio dire La umana Protegge anche i planes Sì Ma nissa chiude Non è detto No Qui la giocherei A turno 5 Qui la gioco A turno 5 Inizio a far pezzi Poi la prossima Chiude Zio vergogna Quale astio Beh grazie Mi hai rampato nissa Let's go Eh perché i ban Non sono ancora Entrati in vigore Ma noi stiamo già Giacando Come se fosse già Tutto bannato Perché sti cazzi Perché sti cazzi Tanto sto mazzo È invincibile Ti prego Fammi Fammi cruelty Per guardarmi la mano Ti prego Attenzione Il Moloch La carta più sottovalutata Di March of the Machine Merda è bianco Oddio ho vinto Fermi 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 ho vinto GG GG L'Ital No non è l'Ital Ma giù di lì Molto vicino All'Ital Da 5 9 più 14 25 Non ci voglio credere Sono one off Di nuovo E allora non si fa Faccio dopo Eh per forza Vedrai 23 Scusate Ero molto più off Matematica Let's go Vabbè Comunque non era Da fare Tu lo dopo sì Tu lo dopo è chiusa 23 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 Niente Nissa non è che deve chiudere per forza Voglio dire È un planeswalker forte Che fa anche pezzi E spacca incantesimi artefatti Che carta Oh gliel'avevo detto Ai tempi È il planeswalker più forte Che c'è in standard Solo che non li potevi giocare I planeswalker C'era in bocca Ah Traxa Grande Posso pescare un'altra Nissa Se gli faccio il turno di Dio Ai tempi di Gimundo Lo dissi Aspetta Lui va Para 8 Prende 6 11 12 E non è little Still not little Piegare Piego Qua si è rotto Grazie lo pensò Mi ha detto Ho rotto il meta Basta Questo è il mazzo più forte Ci sarà in standard Nel futuro Ok Guarda che c'è tanta roba in campo Bro E sta per prendere Più 9 Più 9 Vabbè Va a prendere Leila in binding Sicuramente Per forza Guarda pesco un'altra Nissa E sbor Cioè perché il 7-7 Perché il 7-7 Non il Vabbè Perché non spaccare il 7-7 Possiamo spaccare il 6-6 No Attenzione Leonardo Michelangelo Donatello Raffaello La carta più forte di Magic Si toglie il segnalino Spacca binding Riprendo Nissa Faccio un 8-8 Su chiami il pertugio Let's go Il K Signori Il K Nessuno Mai ci pensa Il K Il K È fuori di testa Altro che Questo rimane Pippo A fargli paura Mamma mia Il K Mamma mia Le tartaroghe ninja Draga 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 Va bene Minchia La me l'ha buttata giù Alla fine me l'ha buttata giù Io Cristo E ora riparte anche il maledetto E ora riparte anche il maledetto Senza trovare altri removal Non c'è Non c'è binding Non c'è Eh Twilight non toglie Nissa Madonna santa Che storia Trunno è buono Trunno è molto buono Però me lo può varattare comunque Questo è male Dai Awakening Questo è malissimo È la madonna Ma che partita hai fatto Ecco Vabbè sì dai Ha pescato 37 Oh l'abbiamo tenuto lì Oddio Sì ma tanto non serve un cazzo C'ha 10 pippoli Cosa faccio Più uno E poi me l'attacca E me la scoppia Qui devo pescare Prima Awakened E poi Nissa No potrebbe essere Che impazzisce Mi ignora Nissa Va tutto nel viso Mi manda 9 poison A parte ha chiuso ragazzi Ok No se il kiwi viene forte Hertz mi serve Veramente Molo che è un po' me Che fa un po' troppe volte Spello di colore diverso Che non me lo fanno fare Fatto 4 Atraxa E l'abbiamo tenuto lì Dopo 4 Atraxa Cazzo Nella fica Giusto per essere sure Anche questo video Va smonetizzato Minchia però Ciao Checco Stonebrain Lo dovrei giocare Sì Segnatevele Stonebrain E fade Fade into history Mamma mia La curva La curva La curva La curva Stomper Qui dobbiamo pescare Stomperone Eh ma no C'ha già l'eyline Porco d'inci Vabbè Va bene Va bene Va bene Va bene Usalo 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 Ce ne frega nulla Bravo Dj E ti segui Palmieri Nutrizione Grazie a tutti Di Grazie a tutti Distrutto? A casa! A casa! Non puoi vincere! Non puoi vincere contro questo mazzo quando gira Non puoi fare niente, lo guardi E lo guardi e soccombi Lo guardi e soccombi Ho rotto il nuovo standard Distrutto Annichilito, preso, mangiato E vomitato cacato Dai, a come ti permetti di avere Nissa come avatar? Infame E ripeto Siamo ancora Pre-ban qui, eh Cioè io sto giocando un mazzo Per il meta post-ban Contro quelli Con i mazzi bannati Tipo, allora perché questo mazzo perde prima? Perché è debolissimo da invoke Questo mazzo, ok? In generale Questa mazza è molto debole da invoke despair Quindi ora magari questo se c'è invoke despair La perdiamo Ma se non ce l'ha Ed è una persona honorous Walorus Rispettos Allora forse Vai fable Vai con la merda di fable Ah, se ci lascia stare Se ora si pesca un'altra terra Posso fare Su, su Su, su Su Sium 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 raga Direbbe Non so si Eh, non posso Sium Devo spippolare E alla peggio si ha colto stomper Sti cazzi E ha fatto bene Ha visto che non ho fatto l'endro Maledetto Il problema è stata Liliana Non Fable Meno due Meno due Questo è curioso Le cinque banna Le sei spoiler Sì esatto Ehi Non posso Godo Questo è tala ora Sì esatto Allora, vediamo se non mi scarta con Liliana Vediamo Se non mi scarta con Liliana vinco Fasci Oldred Dai, fasci Oldred Fasci Oldred Guarda quanto cazzo me ne cazzo Guarda, falla Fasci Oldred Ho detto fasci Oldred Devi fare, devi fare sci Oldred Io non so contare, ce l'abbiamo 34 danni 8, 16, 24 No Ah beh, così No, così Ah, lo so che ce l'ha No, siamo morti da Trax Fasci Oldred Maledetto, maledetto Allora Ma qui K è forte Hunger Da che titano Forse è un po' dentro Devo chiudere E' buona Ma lì sto già in vigore No Tra otto minuti Minchia Quanto me la sento Mamma mia Quanto me la sto sentendo Una terra Non esiste Tozzi Non esiste Tozzi Oh vabbè come ha sgravo sto mazzo L'ho fatto delle partite prima Poi se c'è la partita classica Che Arena dice di no E ha detto di no Sti cazzi Però Ma adesso la pescoterra Sono messo bene Madonna però Liliana Dio cane Vabbè goditi questo mazzo Per altri otto minuti Niente Adesso ha detto Arena Basta Vabbè si doveva far vedere Anche una dove ti gira male E perdi no Abbiamo fatto due partite Mastodontiche Land Grazie a tutti I Mastodontiche Mi Questa sta qui Per Liliana Sti cazzo Attacca Stupido BB Attacca con Harvester Stupido BB Attacca con Harvester Bro Bro Aspetta not Stupido BB Boh vediamo se ci cade Sì È una carta che non deve avere Quella L'ho provato Potevo Sto turno chiudevo Sto turno avrei chiuso Allora posso ancora troppliccare C'erano altre due di Nisse Ne ho altre due Attenzione Ciao marchino Che va ai mondiali Col suo pipino Come stai? È veramente un grande day build E lasciatelo dire Grazie Arus Ah se sono riuscito a far funzionare Buono verde No 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 Nisse 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 dalla cima Non è Nisse C'è tempo C'è tempo C'è tempo Va bene Va bene Un altro turno Un altro turno Abbiamo un altro turno Nisse 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 o Ixalan Alla cerca di Nisse Sì Oh ci mettiamo di gap No no Stormbrain e orzette Assolutamente sì Vanno aggiunti alla side Guardo poi Sistemata Forse frilback Non sta facendo abbastanza Sì sì bravo Guarda come me ne frega Un cazzo di nulla Di questi harvester Della minchia Nissona Dalla cima Nissona Spesso il matone di Nisse Viene sprecato Ma spesso no Nisse Eh foresta Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Siamo vivi Ragazzi Attaccare Così non abbiamo Little Però se pesconisse È bello No a me Non mi è arrivato E dai Un turno Prima Un turno Prima Un turno Prima Con un attaccante In più Avevo Little Erano precisi Erano 33 Con 32 Ci andava O con un punto Vita di più O un turno Prima Che palle Vabbè Vabbè Diamo l'ultimo saluto A Kikikiki E questa è l'ultima partita Ne fa Signori L'ultima partita Fanculo Comunque Il mazzo È straforte L'abbiamo Perso male Per colpa Di Ovviamente anche Di un mulligan Meh Però il mazzo È figo 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 È forte La side Va sistemata Sicuramente Fade Fade From history Insomma Va a prendere Il posto Di Frillback E un K Vi han Detto Sì Che dovevo Sideare Anche Oddio Me lo sono Già Dimenticato Avevo detto Un'altra carta Stonebrain Almeno Due Stonebrain Così Dai Sì Un herz Si va ad aggiungere Agli Scrapgorger Per esiliare Ci sta Ci sta Signori Questo secondo me Farà Cose Nel prossimo Standard Senza Rakdos Del cazzo Sì 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 Questo mazzo Può fare Grandi 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 Cose Se Se Questa Cosa Riesce Ad andare Indisturbata È chiusa Questa Qui è Fuori di test Completamente fuori di test